Il seminario è importantissimo per l'importanza che la tutela della privacy ma soprattutto della sicurezza richiede in termini di attenzione di tutte le pubbliche amministrazioni ma se mi permettete tutto il paese perché occorre che ci sia un trasferimento di cultura sull'importanza di questi temi a tutti i livelli sui cittadini, sull'impresa e non ha bisogno di dirlo perché l'interesse che dimostra la pubblica amministrazione sotto questo aspetto l'avete plasticamente visto oggi. Plasticamente è stato detto da Modafferi del Garante Privacy che in questa occasione è stata celebrata la figura del DPO in che modo? La importanza della figura del DPO come figura che deve sostenere e interagire con il titolare del trattamento dei dati per fare in modo che il diritto dei cittadini sia completamente garantito in ogni aspetto del trattamento e questo richiede un approccio sufficientemente complesso alla realizzazione di servizi digitali che però può essere estremamente semplificato qualora nella realizzazione di nuovi servizi digitali si parta dalla re-ingegnerizzazione dei processi e dei servizi che devono essere resi ai cittadini e alle imprese. Il suo intervento ha annunciato una revisione del piano triennale in che modo? In termini di struttura per aumentare la condivisione con tutta la platea degli stakeholder che io considero oltre alle 22 mila amministrazioni tutto il paese ovvero anche le imprese che lavorano sul territorio soprattutto perché il piano triennale dia quelle indicazioni che facciano finalmente fare al paese quella svolta che è necessaria un cambio di passo e di direzione verso la digitalizzazione e per questo è necessario che tutti quelli che devono attuare il cambiamento sappiano esattamente cosa devono fare e quindi uno sforzo di revisione in termini di fruibilità e chiarezza delle azioni.